www.papà.it E io per passare un esame mi devo conciare così. Qui dobbiamo pagare tutti. Non è il figlio del rettore. Tutti sanno come ottengo successi. Ed è grazie a te. Non vuoi più essere il figlio del rettore. Giusto? Perfetto. Allora quella è la porta. Qua tu friggerai arancino. Roberto, da quando c'è TripAdvisor, l'olio va cambiato. Se assistesse un'app che dà la possibilità agli studenti di valutare l'operato e i professori, questi non potrebbero più fare ciò che vogliono. Capite che voglio dire? Io vorrei sapere chi è questo figlio di bottana che si è inventato a questa... Tuo figlio. Mio figlio. Scrivi 30 e cancella la tua città. Grazie professore. Dal latino gratis. Mi raccomando, collezionate pallini. Il lavoro cancella i vizi. Generate dall'ozio. Bella questa. Ma di chi è di Seneca? No. Di Seneca. Il ragazzo le consegne. La vedo in filosofia.